Noi abbiamo ambizioni importanti, quindi ripartiamo dopo un fermo di oltre due mesi. Il trend era molto positivo, ma la ripartenza è sempre tutta da verificare, come si vuol dire. Non ci sono novità, anche perché la rosa era una rosa ampia, una rosa completa e già messa a punto da tempo. E quindi ripartiamo con le ragazze che abbiamo già conosciuto in campo. Ricordiamo la classifica. Sì, noi ci troviamo a 12 punti, con differenza a reti importanti. Quindi ci troviamo al primo posto che condividiamo, ma appunto per differenza a reti siamo primi assoluti. Però, ripeto, siamo alla quarta di campionato. Il campionato è ancora molto lungo, quindi ogni partita ce la dobbiamo giocare al meglio. Domenica appunto ce la giochiamo con Roma decimo quarto. Poi abbiamo la Torres, appunto la prossima domenica, quindi il 31, qui in casa. E ecco, la Torres già è una delle prime in classifica e poi a venire insomma le altre. Quanto è oneroso un campionato femminile? Perché ora le donne stanno assumendo sempre un'importanza decisiva, insomma, in questo mondo del calcio. Ma dipende come lo si considera. Noi stiamo cercando di fare tutto al meglio, stiamo cercando di fare ciò che si fa nel professionismo. Quindi, ovviamente, questo ha un onere maggiore. Però devo dire che le ragazze meritano tutta questa attenzione, come il movimento calcio femminile. Attenzione che sicuramente no, poi non tutti concedono. Quindi noi vogliamo fare la differenza, la stiamo facendo. Le ragazze sono molto contente e soddisfatte, anche perché sono ragazze, molte delle quali hanno esperienze anche in altre squadre. E quindi per quello che ci rappresentano sono molto soddisfatte. Grazie a tutti.